1 per piccola bimba e palomitas macchina che va via al comando c'è pazza ferma che va davanti all'esterno passion wall quindi il numero 1 di polda e quindi in avanti pazza ferma poi c'è il 5 di passion wall che sistema la corda in terza posizione il numero 1 poi patrizia flesci ancora il numero 2 di peggy di azzurra al comando sempre e comunque è pazza ferma pazza ferma che controlla la situazione in avanti nei confronti di passion wall poi c'è polda ancora patrizia flesci poi c'è peggy di azzurra dalle retrovie c'è il numero 11 di point break che prova la risalita avendo la schiena valida di putter che prova a venire in avanti pazza ferma al comando nei confronti di passion wall polda che ora si scopre all'esterno rimane il numero 6 polda che ora va all'attacco deciso di pazza ferma che inizia un po' a sveltire l'andatura polda all'esterno poi c'è ancora il numero 7 di patrizia flesci quindi il 5 di passion wall lungo birilli pazza ferma attaccata in mano a cosimo cangelosi ma polda non demorde e va a punzecchiare il battistrada quindi patrizia flesci all'argo pazza ferma polda le prese poi c'è ancora patrizia flesci quindi il numero 5 di passion wall quindi pazza ferma che prova ad allungare pazza ferma poi ancora il numero 9 di palomita che cerca di venire via in avanti è proprio il numero 4 di pazza ferma all'esterno c'è patrizia flesci quindi peghi di azzurra patrizia flesci che insiste all'argo di pazza ferma quindi patrizia flesci e pazza ferma patrizia flesci che cerca di allungare da pazza ferma patrizia flesci che nel tratto conclusivo prende vantaggio patrizia flesci che viene a vincere facilmente su pazza ferma è il numero 2 742 l'arrivo ufficioso di questa corsa grazie a tutti grazie a tutti